Essere l'amore di un calciatore non è facile. Dobbiamo riuscire a raccontare una storia d'amore costellata di momenti anche un po' complicati. Per starmi vicino l'ultimo anno e mezzo, voglio dire che sei proprio innamorata. Eh, ma anche molto intelligente, anche molto... Era abbastanza pesante. Perciò avendo vicino una persona che è riuscita a capirti, riesci a capire tu che in vent'anni hai fatto la scelta giusta. Grazie a tutti.